Come comportarsi nei confronti degli apostati? Guardate all'esempio di Gesù, dice l'attore di guardia. Lo schiavo scrive sull'attore di guardia del 15 gennaio del 75, pagina 44-50. L'esempio di Gesù ci impedisce di essere estremisti, come certi scrittori rabbinici, sul modo di trattare qualcuno come un uomo delle nazioni e un esattore di tasse. Vediamo le istruzioni dell'Apostolo Paolo riguardo quelli che erano disassociati. Non mischiarsi in compagnia con costoro, non mangiando nemmeno con loro, ma come mostra l'esempio di Gesù, continua a scrivere l'attore di guardia, non si richiede di trattarli come un nemico o di rifiutare di mostrare normale cortesia e considerazione. Ricordatevi di queste parole dello schiavo fedele e saggio domani, quando incontrerete per strada il vostro fratello, la vostra madre, il vostro padre, i vostri figli disassociati. Li tratterete come nemici, guardandoli magari con disprezzo, facendo finta di non vederli, oppure, come dice lo schiavo, comunque con umana cortesia e considerazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.